Sì, carichiamo più larghe, sul 19, qui il 18, stagliossi di meno, più scarico, lo sciato. Ma comunque sono una strada un'altra parola. Chiaramente più pista le sentite più queste cose, è una strada più mascherata quando fai la prova un punto. Sennò stanno a meno. La gommatura è diversa, la gommatura. Qui abbiamo sempre Dunlop, ma perlomeno un'ora e 5. Sennò non fa chi ha solo l'unione. Sennò non fa chi ha solo l'unione. Questa va lenta, ma sta va lenta. Sennò vedi? Sennò è tutto sinistra e questa qui, te la subisci tutta. Quando hai una sequenza di curto devi sempre sacrificare la prima in funzione della seconda. Un dato molto frequente anche per la strada. Se no non paghia, perché alla fine sei più velozionato in cura e più lento nella seconda, che è quella, quella che precede il refillismo. Quindi perdi 4 minuti e poi puoi avere il vantaggio. Un minima rimpresa, volta tardi. Come stai a entrare da cura e c'è? C'è un punto divertente che hai il piacere di guidare. Se c'è un po' di descritto. Che hai il vento. E' un' eccolo piace. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti